La comunità europea destina fondi per le aree rurali calabresi. Tra queste un ruolo di primo piano spetterà al Cogal Monteporo Serre Vibonesi, la cui partnership pubblica e privata si è incontrata alla Camera di Commercio. Obiettivo? Avviare la discussione per mettere in campo progetti di sviluppo in grado di attrarre risorse da investire sul Vibonese, una terra ricca di risorse naturali e paesagistiche, ma ancora troppo poco sfruttate. In realtà, ha spiegato il Presidente Paolo Pileggi l'incontro e il proseguimento di un percorso già tracciato e che ha portato alla definizione dei tre ambiti di intervento, di cui quello principale è rappresentato dal turismo sostenibile. C'è un'attività che abbiamo avviato qualche tempo fa, che è appunto la costruzione del partenariato pubblico privato in funzione della programmazione 2014-2020. Con questa assemblea di partenariato faremo un ulteriore passo in avanti, nel senso che incomincieremo a discutere di quelle che sono le misure, le sottomisure, quindi dei progetti operativi da presentare nei futuri programmi, che sono il piano di sviluppo locale e i programmi integrati per le aree rurali.